Tutte in passerella, sabato sera a Villa Cucidi di Milazzo per la quarta selezione interregionale Miss Reginetti d'Italia, Miss Reginetta Over per i talentuosi bambini Italian Kids. Concorsi nazionali promossi dalla New Meta Event che vede nel suo patrono Alessio Forgetto una ricerca costante di nuove idee, dando all'evento grande professionalità e serietà grazie anche a uno staff nazionale coordinato brillantemente a Deborah Lorus e Giorgia Semprini. Miss Reginetti d'Italia è diventato da due anni anche un docu reality dal titolo Queen Mood che racconta la vita delle Miss in tutti i suoi aspetti, dando grande visibilità alle partecipanti. Sarà una selezione all'insegna dello spettacolo, con le aspiranti Miss sfideranno la passerella in abito casual, elegante costume davanti ad un numeroso pubblico e ad una giuria attente e competente. Non mancheranno i momenti di alta moda con lo stilista milazzese Fabrizio Solarino e il momento sposa con abiti vintage che ci faranno ritornare per un momento nel passato. Le protagoniste dello spazio moda saranno Romina, Gaia, Chiara, Elena, Rebecca e Gloria, già finaliste regionali per la Sicilia orientale e per Miss Reginetti d'Italia. Tanti gli ospiti, dalla cantante Gabriella Bisignano, una delle voci del gruppo Atmosfera Blu, a Lugola Emergente Antonio Cannistrama, ci sarà anche la finalista regionale, e i talent kids della sezione canto Ambri l'acqua. Un evento assolutamente da non perdere, tra bellezza e spettacolo, quindi non si farà mancare i momenti dense, con lo straordinario DJ Piero.